Voi siete tre fortunati prescelti e da oggi io lavorerò con voi per voi Sapete cos'è la legge dell'attrazione? Un libro che vende più del tuo? Anche quello, ma non solo Quella favola che col pensiero positivo attraiamo a ciò che vogliamo Non è una favola Il successo è una scienza Si studia, si applica e si ottiene Volete essere famosi? Dei formidabili venditori? Un amante irresistibile? Trovatevi un modello che ce l'ha fatta e diventate come lui Dovete mangiare, dormire, respirare fare sesso come loro Si chiama modellamento Un vecchio detto diceva se vuoi essere potente, fingiti potente Io dico se vuoi essere potente, sii potente Punto